Il ferro da stiro verticale portatile Rowenta Pure Pop DR2022 è perfetto per chi desidera praticità e velocità. Con una potenza di 1300W e un sistema di riscaldamento rapido, è pronto in pochi secondi, ideale per stirare o igienizzare i capi in poco tempo. Il design compatto lo rende facile da trasportare, mentre il sistema reversibile permette un uso versatile su ogni tipo di tessuto. Il colore rosso corallo aggiunge un tocco di stile a questo strumento efficiente e funzionale.